Ancora uno stop al progetto di finanza per il cimitero di Sant'Agata Militello, motivo di divisione nella maggioranza consigliare a sostegno del sindaco Bruno Mancuso. Nella seduta del Consiglio Comunale che si è svolta ieri, l'aula ha bocciato il progetto, così come attualmente predisposto, e motivo di acceso dibattito già in passato e di due petizioni popolari contro la realizzazione. Già stralciato nel 2022 dal piano triennale delle opere, ieri il progetto ha trovato il no del civico consesso, con i voti di sette consiglieri di maggioranza e quattro di opposizione. Nella seduta di ieri sullo stralcio della proposta di affidamento ai privati di gestione e ampliamento del cimitero, erano stati presentati due emendamenti, uno da parte della minoranza e l'altro dai consiglieri di maggioranza Ferraù, Vitale, Sberna e Damiano. I giovani consiglieri hanno proposto di esternalizzare e non privatizzare la gestione realizzandola in maniera più completa. Acquisiti i rispettivi pareri, l'opposizione ha ritirato la proposta, aderendo di fatto all'emendamento di maggioranza, che ha poi ottenuto il voto favorevole dei quattro firmatari, della presidente Brancatelli, dei consiglieri di maggioranza Poma e Natale e di quelli di minoranza Starvaggi, Alascia, Caruso e Puleo, astenuto il consigliere di opposizione Ortoleva. Per la maggioranza hanno votato contro lo stralcio del project i consiglieri Reitano e Indriolo. Traspare però a conti fatti una certa fibrillazione tra le fila della maggioranza, che adesso richiede un approfondimento politico, così come dichiarato dallo stesso Bruno Mancuso.